Questo è un vibratore selfie che ho acquistato dall'America qualche anno fa, dopo aver letto un articolo che girava sul web che descriveva appunto questo oggetto molto particolare con il quale è possibile farsi dei selfie durante un orgasmo. E che cosa è accaduto? Un anno fa, sui miei canali social, ho messo un annuncio in cui cercavo ragazze molto disinibite per la realizzazione di un nuovo progetto folle. L'idea era appunto quella di fare una nuova serie fotografica in cui realizzavo ritratti dell'anima. Quindi mi hanno risposto in tantissime con curiosità alle quali ho spiegato appunto le mie intenzioni. Da uno sono diventate due, da due sono diventate quattro, si è sparsa la voce e tantissime ragazze mi hanno appunto richiesto di avere un loro ritratto del proprio orgasmo. Ad oggi, dopo un anno esatto in cui ho tenuto segreto questo progetto, ho deciso di aprire una pagina Instagram in cui divulgo i miei primi 100 ritratti d'orgasmi femminili realizzati con un vibratore selfie. Grazie. Grazie.